un'attrezzatura pronta ricerche sul computer della location per gestire i vari posti nel frattempo aspettiamo il cliente che arriva e ora si porta tutto in macchina come sempre i nostri loghi dappertutto eccoci in macchina siamo pronti per partire cintura stiamo ragionando sulle ultime cose, sulle script e sulla regia e siamo pronti per il giorno dai che si inizia una location dove gireremo il nostro videoclip per il cliente bordo lago qui sarà sicuramente la strada è bravo, è imbarato, bene bene periodo ottica per poter fare una nuova inquadratura abbiamo finito appena la prima scena scegliete quadro firma per ogni vostra produzione no, grazie, grazie un disco io inizia il secondo step ora scendiamo e facciamo le riprese a mano ecco lo break, prima fase finita e tra poco si ritorna in scena giusto fa vedere un pochettino che camminano, no? no, no, no vicino? no, tutti quanti camminano ok, ok, allora mi mette proprio là ora andiamo, stiamo andando a questa altra location questo posto è fantastico allora che ne pensi di bello questo posto? si, si sta freschi qui si sta freschi e le riprese stanno venendo una poesia dobbiamo girare le ultime scene e poi siamo di ritorno a casa che mi dice anche se scena praticamente tu parti da qua così cammini e dentro montiamo siamo in macchina e torniamo secondo giorno di riprese siamo qui in studio oggi tocca al grease cream fa caldo quindi saremo anche il ventilatore ciao 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 Grazie a tutti. Anche questa avventura di questo lavoro è finita, ci ha fatto piacere documentarla e viverla come un'esperienza che avete vissuto insieme a noi. Se la cosa vi fa piacere e vi interessa questo genere di format, di vlog in cui noi condividiamo tutti i nostri lavori, le nostre emozioni sul set, tutte queste cose, iscrivetevi al canale e seguite i nostri lavori. Ci vediamo al prossimo video.